ok ciao a tutti ragazzi abbiamo fatto il video c'è praticamente quando siamo la mia migliore amica lisa mi ha fatto sbrigare e non mi ha fatto attivare il video quindi gli è colpa sua se non ha attivato il video subito c'è una freccia lisa comunque lisa comunque c'è una freccia nel posto dove sei seduta c'è una freccia nel posto dove sei seduta c'è una freccia nel posto dove sei seduta come se 14 g come a me lisa ciao ci vedremo quando saremo in vacanza ci vedremo per tutto il volo ma come per tutto il volo io me ne vorrei andare nella prima classe solo che non ho pagato i biglietti della prima classe ecco non stiamo solo partendo mica ci andiamo a schiantare giusto non ci andiamo a schiantare ci andiamo a schiantare per favore stiamo partendo ma non stiamo partendo ma cosa stiamo facendo lisa non stiamo partendo e siamo arrivati forse non lo so siamo nello spazio come siamo nello spazio la prima classe che bella troppo troppo che servirà fra un po oh cavolo oh cavolo lisa cosa sta succedendo era solo un volo di ryanair per londra che cavolo è successo il volo di ryanair per londra ma io stiamo a rinforzio ammena rinforzio al posto si si pure io me ne ritornavo al posto metti te al tuo posto il volo di ryanair per londra che cavolo è successo lisa cosa sta succedendo non lo so sembra troppo horror è troppo horror per i miei gusti oh my god no Lisa non possiamo uscire no Lisa Lisa mi sta vedendo da piangere eh sono morta pure io sono morta io sono morta sono a 50 no 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 pensavo che fosse una cosa pensavo che fosse una cosa carina ma non una cosa horror eh raghi va bene ora visto allora visto che era super horror super non ci ma non c'era male in un altro terror eh vabbè allora allora raghi per qua è tutto ora ora noi vedremo cosa faremo un po' giocheremo sì ma ancora sappiamo se sto video lo caricheremo eh neanche lo sappiamo se il video lo caricheremo ok raghi ciao mi mandiamo un bacione ciao ciao ciao